Buona giornata! Oggi il Dalai Lama ci insegna che esistono solo due giorni l'anno in cui non puoi fare niente, non ci puoi fare niente. Sentiamo quali sono. Ci sono solo due giorni l'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Quindi Dalai Lama, questa cosa è bellissima perché ci insegna che l'unico giorno in cui puoi fare qualcosa, in cui puoi cambiare il mondo, in cui puoi essere felice, ecco anche questo è fondamentale per la nostra felicità e la nostra pace. L'unico giorno in cui puoi essere felice, in pace, è l'oggi. È il qui e ora. Oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e vivere. Oggi prendi consapevolezza del tuo qui e ora e come lo puoi trasformare nel tuo giorno felice. Sì, felice. No, no, non dico medio, non dico così e così, non dico sopportabile, dico felice. Quindi, Daniele Paci, per felicità e pace, Om Shanti Shanti Shanti. Buona giornata. Ciao.